Le Paralimpiadi 2020 si chiudono con 65 medaglie per gli azzurri, ma nessuna ai golfisti, ancora esclusi dall'Olimpo dei Paratleti. Io penso che l'Edgar, che è il nostro ente supremo paralimpico, paratletico, possa cercare e trovare in qualche modo una soluzione per far sì che un atleta paratletico possa andare alle Paralimpiadi a giocare a golf. E forse a Parigi nel 2023 ci sarai anche tu. Sarebbe un grandissimo obiettivo al quale mi piacerebbe veramente prendere parte. Cristiano Berlanda, classe 1974, lecchese, portavoce dell'Edgar, ambassador di cancro primo aiuto, campione di golf, quasi sempre sul podio, anche nelle classifiche dei normodotati. Chiaramente il mio swing è leggermente diverso da una persona normodotata, perché insieme a Maestroni abbiamo dovuto adattare il mio swing in base alla mia fisicità. Quindi loro ti guardano, ti fanno delle domande tipo, ma come mai, ma riesci, ma fatica, ti fa male. Ecco, quando mi fanno la domanda, ti fa male, io resto sempre basito perché io dico, ma io non ho mai avuto niente, cioè non ho mai avuto un'operazione, non sono mai andato in ospedale, non ho fatto niente. Però capisco ed è giusto che chiedono, perché più chiedono, più si rendono conto che comunque sia anche il paratleta può giocare tranquillamente con un normodotato. Una volta che loro sanno cosa c'hai e sanno come vivi e sanno e ti vedono, perché comunque ti vedono sul campo sorridente, qualcosa gli rimane dentro, quantomeno di positivo. Questo reto cristiano ha deciso di condividerlo e insegnarlo a chi come lui convive con un handicap. Con questo scopo, in periodo di pandemia, ha fondato Quality Life of Ambassador, il suo simbolo, una tartaruga, certamente perché non è la protesi nascosta dalla tuta, il vero sostegno, ma ben in vista sul braccio con cui lancia la pallina in buca, due animali corrazzati. Io mi vedo molto in una tartaruga, nel senso che ho messo una corazza per affrontare il mondo. Da quando sono piccolo mi ne sono sempre fregato e ho sempre tirato dritto per la mia strada. Arrivo sempre, magari piano, ma arrivo. Quindi l'idea della Quality Life of Ambassador è una persona che crede nella qualità della sua vita, non devi guardare la qualità della vita degli altri, ma della tua vita, guardare avanti, mettere degli obiettivi e via, vivere giornalmente soprattutto con tranquillità e senza invidia, perché la tartaruga non è invidiosa della lepre, perché tanto anche la tartaruga alla fine arriva, arriva come arriva la lepre, magari ci impiega un giorno in più, ma ci arriva.